Amici di TG Plus buongiorno, oggi parliamo di igiene orale e lo facciamo con il nostro ospite il dottor Simone Peruzzo, titolare dello studio dentistico splendente. Simone buongiorno. Buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti voi. L'igiene orale è un argomento che se ne parlassimo con i bambini troverebbero probabilmente più roiosa, invece gli adulti ne capiscono l'importanza. Quindi ti chiedo proprio perché è così importante avere un'igiene orale curata? Sì, è molto importante, è molto importante perché l'igiene orale è alla base della salute, della salute del cavo orale ma anche della salute generale, perché se abbiamo un'infiammazione gengivale ci dà sanguinamento, ci dà noia, ci dà malessere umorale, nel senso che tutta la giornata noi pensiamo a questo fastidio ai denti, che in realtà è la gengiva e ci dà noia. Quindi il primo punto fondamentale della giornata è lavarsi i denti, ti svegli, fai colazione e ti lavi i denti, ti lavi i denti così hai un rapporto con le persone vicino a te spensierato, non pensi ho l'alito cattivo, non pensi ma se sono a disagio, ti senti perfetto, pulito, profumato. Quindi lavarsi i denti è l'inizio della giornata, non il caffè e la sigaretta, lavarsi i denti. Le varie metodologie di spazzolamento possono essere più o meno mirate alla propria persona, vuol dire che di base lo spazzolamento manuale è un buon spazzolamento, ci sono le tecniche storiche ma anche delle tecniche più innovative. Se ti lavi bene i denti con lo spazzolino manuale va benissimo, ma se il tuo dentista o igienista dentale ti dovesse consigliare uno spazzolino elettrico, prendilo in considerazione perché sicuramente avrai dei benefici. Quali sono appunto i benefici di uno spazzolino elettrico rispetto a uno spazzolino classico manuale? Allora come da molte pubblicità si è potuto notare nel tempo, lo spazzolino elettrico ha una rimozione molto più considerevole e mirata della placca, quindi la placca sono tutti depositi morbidi, teneri, residui alimentari, epiteliali rispetto a uno spazzolino manuale. Le tecniche di spazzolamento elettrico sono anche in questo caso diverse, abbiamo delle testine rotonde, delle testine rettangolari, delle setole più o meno rigide e ci sono addirittura delle setole di silicone che ci possono permettere di lucidare un po' le superfici dei denti. Quindi se dovessi consigliare uno spazzolino elettrico prendetene uno con vari inserti per poter in base alle vostre esigenze trovare sicuramente la tipologia mirata per risolvere i vostri deficit di igiene orale. Prima di salutarci un'ultima domanda legata al filo interdentale, questo tra virgolette passa al mio termine sconosciuto perché spesso le persone lo usano una tantum, invece è anche questo uno strumento fondamentale. Sicuramente sì, hai detto bene, il filo viene usato quando hai il mangiare incastrato tra i denti, invece dovrebbe essere un'abitudine giornaliera o perlomeno il più possibile durante la settimana per andare a rimuovere quei piccoli accumuli, depositi di cibo che tra dente e dente si vanno ad insediare e a lungo tempo creare delle crestine di tartaro che vanno a infilarsi sotto il margine gengivale. Quindi inizialmente solo un po' fastidio, un cattivo gusto, ma a lungo andare possono creare dei problemi ai tessuti di sostegno del dente e quindi nel caso più grave anche alla mobilità dentale e perdere il dente. Quindi per concludere la cosa più importante è avere un'igiene orale quotidiana di almeno due o tre volte per evitare qualsiasi disagio. Simone ti ringrazio, anticipo agli ascoltatori che la prossima puntata sarà dedicata allo sbiancamento.